Buongiorno, sono Gianluca Maldini e vi parlo da uno dei nostri laboratori Immergas. Oggi parliamo di come consumare meno con le caldee a condensazione, la tecnologia ecologica che recupera il calore dai fumi in uscita. Per ridurre i consumi di gas devo diminuire la temperatura di mandata dell'impianto, che per temperatura di mandata intendo la temperatura dell'acqua che circola all'interno del nostro impianto di termosifoni. Più la temperatura di mandata è bassa, più riesco a recuperare il calore latente che sennò andrebbe disperso attraverso la canna fumaria in atmosfera. Per ridurre la temperatura di mandata posso fare in due modi. Automaticamente, grazie all'utilizzo di una sonda posizionata all'esterno che comunica direttamente con la caldaia, oppure manualmente andando ad agire direttamente sulla manopola del riscaldamento. Attenzione, se la temperatura di mandata è troppo bassa la casa non si scalda bene. Il consiglio è quello di mantenere la caldaia sempre in funzione e impostare delle fasce orarie tramite un cronotermostro d'ambiente. Comfort, per esempio quando siamo in casa e manteniamo la temperatura intorno ai 20 gradi. Economy, quando siamo fuori casa o di notte e manteniamo la temperatura di 18 gradi. Un dispositivo di termoregolazione voluto, come per esempio il CAR V2, comunica la temperatura ambiente direttamente alla caldaia, impedendo numerosi accensioni e spegnimenti. Facendo così, aiuta anche al risparmio energetico. Grazie per l'attenzione.